dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei qualcuno fu durante la quindicesima sessione annuale della società di gastronomia di berlino che il presidente herr prosit fece il famoso invito ai suoi membri la sessione era naturalmente un banchetto durante il dessert nacque un'accesa discussione sulla originalità dell'arte culinaria era un cattivo momento per tutte le arti l'originalità era in declino anche nella gastronomia c'erano un declino e un indebolimento tutti i prodotti della cucina che si definivano nuovi non erano altro che varianti di piatti già noti una salsa diversa un modo lievemente diverso di condire o insaporire in questo differiva il piatto nuovo da quello tradizionale non vi erano vere e proprie novità ma solo innovazioni tutte queste cose furono deplorate unitamente al banchetto con una varietà di toni e diversi gradi di vehemenza mentre si discuteva con calore e convinzione vi era tra noi un uomo che sebbene non fosse l'unico a tacere era tuttavia l'uomo il cui silenzio maggiormente si notava perché da lui più che da ogni altro ci si poteva aspettare un intervento quest'uomo era naturalmente herr prosit presidente della società e anche di questa riunione herr prosit era l'unico uomo che non partecipasse alla discussione egli stava in silenzio più che disattento si sentiva la mancanza dell'autorità della sua voce era pensieroso lui prosit stava in silenzio lui prosit appariva serio lui wilhelm prosit presidente della società di gastronomia il silenzio di har prosit era per la maggior parte degli uomini una cosa rara e gli somigliava mi si concede al paragone a un uragano il silenzio non gli era congeniale lo stare cheto non era una prerogativa del suo temperamento e come una tempesta per seguire la similitudine se qualche volta si manteneva silenzioso questo avveniva solo come una pausa è un preludio alla più grande delle esplosioni questa era l'opinione che si aveva di lui il presidente era un uomo per molti aspetti eccezionale era un uomo allegro e affabile ma lo era con una vivacità eccessiva con una esuberanza nel comportamento che rivelava una costante artificiosità di attitudine la sua socievolezza sembrava patologica la sua facezia e i suoi scherzi pur non essendo in alcun modo forzati sembravano imposti dall'interno da una facoltà dello spirito che non è quella dell'arguzia il suo umore sembrava manierato la sua irrequietudine naturalmente posticcia in compagnia dei suoi amici e ne aveva molti manteneva una corrente continua di ilarità era tutto gioia e riso eppure è sorprendente come questo strano uomo non mostrasse nella sua espressione abituale una manifestazione di allegria o di gioia quando smetteva di ridere quando dimenticava di sorridere per il contrasto che il suo viso tradiva sembrava cadere in una serietà innaturale come qualcosa di simile al dolore se questo fosse dovuto alla fondamentale tristezza del suo carattere o alle pene della sua vita passata o a qualsiasi altro male del suo spirito io che riferisco questo difficilmente potrei presumere di affermarlo inoltre questa contraddizione del suo carattere o almeno delle sue manifestazioni era notata solo da chi lo osservasse gli altri non la vedevano né vi era alcuna necessità che lo facessero come in una notte di bufere in cui si susseguono le une alle altre ma a intervalli colui che ne è testimone considera l'intera notte una notte di tempesta dimenticando gli intervalli tra i momenti più violenti e attribuendo alla notte la caratteristica che lo ha colpito di più così seguendo un'inclinazione dell'animo umano si diceva che prosit fosse un uomo allegro perché ciò che più colpiva in lui era l'allegria fragorosa la sua gioia rumorosa nella tempesta il testimone dimenticava il profondo silenzio degli intervalli di quest'uomo dimenticavamo facilmente per il suo riso selvaggio il silenzio triste la cupa pesantezza degli intervalli della sua natura sociale il volto del presidente ripeto aveva questa contraddizione e la tradiva quel viso sorridente mancava di animazione il suo eterno sorriso sembrava la smorfia grottesca di coloro nei cui visi picchia il sole là una naturale contrazione dei muscoli dinnanzi a una luce forte qui una espressione estremamente innaturale e grottesca era voce comune tra coloro che lo conoscevano che si fosse dato a una vita spensierata per sfuggire a una specie di malattia nervosa ereditaria o tutt'al più a uno stato patologico poiché era figlio di un epilettico e aveva avuto tra gli antenati per non menzionare molti dei casi più stravaganti parecchi e inequivocabili nevrotici egli stesso avrebbe potuto essere affetto da malattia nervosa ma non posso parlare con assoluta certezza quello che posso dare come verità inconfutabile è che Prosit era stato introdotto nella società di cui parlo da un giovane ufficiale anche lui amico mio un tipo allegro che lo aveva conosciuto chissà dove e aveva trovato irresistibili i suoi scherzi quella società quella di cui Prosit entrò a far parte era a dire il vero una di quelle dubbie e non rare società eccentriche che sono formate da elementi di alto rango e di basso rango in una curiosa sintesi simile a una trasformazione chimica per cui i componenti vengono ad acquisire una nuova peculiare caratteristica diversa dalla loro natura originaria questa era una società le cui arti perché arti devono chiamarsi erano quelle di mangiare, bere e fare all'amore era artistica indubbiamente era volgare ancora più indubbiamente e coniugava questi elementi senza disarmonia di questo gruppo di persone socialmente inutili umanamente corrotte Prosit era il capo perché era il più volgare di tutti non posso ovviamente penetrare nella psicologia semplice insieme intricata di questo caso non so spiegare qui la ragione per cui il capo di una simile società fosse stato scelto tra gli iscritti di rango più basso in tutta la letteratura molto acume e molto intuito sono stati spesi in enigmi di questo tipo si tratta di casi che hanno un'origine indubbiamente patologica po' adatto ai complessi sentimenti che li ispirano credendoli uno solo il nome generico di perversità ma per non divagare vorrei limitarmi al caso in questione l'elemento femminile della società è venuto convenzionalmente parlando dal basso l'elemento maschile dall'alto il pilastro di questa intesa il tratto d'unione di questo composto anzi meglio l'agente catalitico di questa trasformazione chimica era il nostro amico prosit i centri i luoghi di incontro della società erano due un certo ristorante o il rispettabile hotel X a seconda che la festa fosse una gozzoviglia spensierata o una sobria virile artistica sessione della società di gastronomia di berlino per quanto riguarda la prima è impossibile pronunciarsi non è possibile neppure un accenno senza rasentare l'indecenza poiché prosit non era volgare in modo discreto ma in un modo abnorme e la sua influenza poteva rendere ancora più basso il livello dei più bassi desideri dei suoi amici quanto alla società di gastronomia era migliore diciamo che rappresentava il lato spirituale delle concrete aspirazioni del gruppo ho appena detto che prosit era volgare è vero era così la sua esuberanza era volgare i suoi stati d'animo si manifestavano in modo triviale riferisco tutto ciò con obiettività il mio fine non è scrivere incomi né calunnie ma disegnare un personaggio nel modo più chiaro possibile e riferire con la verità che mi consente la più intima convinzione ma prosit era triviale senza dubbio perché persino nella società dove essendo a contatto con elementi della sfera sociale elevata era a volte costretto a vivere non aveva perso molto della sua innata brutalità li indulgeva quasi consciamente i suoi scherzi non erano sempre inoffensivi o graditi erano quasi tutti di cattivo gusto per quanto a coloro che sapevano apprezzare il punto di tali esibizioni essi potessero sembrare abbastanza divertenti spiritosi ben congegnati il migliore aspetto di questa trivialità era la sua impulsività il suo fervore perché il presidente si impegnava con ardore in tutte le cose che intraprendeva specialmente nelle imprese culinarie e nelle relazioni amorose riguardo alle prime era un poeta del gusto ogni giorno acquisiva ispirazione quanto alle ultime la sua bassetta d'animo era di infimo livello tuttavia il suo ardore e l'impulsività della sua allegria non si potevano mettere in dubbio trascinava gli altri con sé per la foga della sua energia trasmetteva il loro calore rinvigoriva i loro impulsi senza rendersene conto eppure la sua foga era dedicata a lui stesso era fine a se stessa era una necessità organica e non intesa stabilire un rapporto col mondo esteriore questo fervore in realtà non poteva reggere a lungo ma finché durava la sua influenza sugli altri anche se inconscia era enorme si noti però che per quanto il presidente fosse impetuoso impulsivo e in definitiva volgare villano non conosceva l'ira nessuno riusciva a irritarlo inoltre era sempre pronto a rendersi gradevole sempre pronto a evitare una discussione sembrava desiderare sempre che tutti andassero d'accordo con lui era curioso osservare come dominasse la sua ira come la reprimesse con una fermezza che nessuno gli avrebbe sospettato tantomeno coloro che lo conoscevano come un uomo impetuoso e impulsivo era soprattutto grazie a ciò suppongo che Prosit godeva di tanta predilezione infatti anche se era volgare brutale impulsivo ma visto che non si comportava mai in modo scorretto con manifestazioni di collera e di aggressività vi deponevamo le basi della nostra amicizia inoltre c'era il fatto che era sempre disposto a rendersi gradevole e a essere affabile che fosse rozzo tra uomini contava poco perché il presidente era una brava persona è ovvio dunque che il fascino chiamiamolo così di Prosit consisteva in questo nella sua capacità di non adirarsi nel suo zelo per rendersi piacevole nel peculiare fascino esercitato dalla sua grossolana esuberanza forse persino in definitiva dalla intuizione inconscia del lieve enigma che la sua personalità presentava ma basta la mia analisi della personalità di Prosit forse esagerata nei dettagli è tuttavia lacunosa perché come credo ha omesso ho tralasciato gli elementi che portano a una sintesi conclusiva mi sono avventurato al di là delle mie capacità la mia comprensione non può accompagnarsi con la chiarezza che desidero non aggiungerò altro non di meno da ciò che ho detto una cosa almeno è chiara l'aspetto esteriore del presidente e per il resto a tutti gli effetti Herprosit era un uomo allegro uno strano individuo è vero ma di solito contento che stupiva per la sua allegria un personaggio in vista nella sua società un uomo che aveva molti amici le sue caratteristiche volgari se da una parte caratterizzavano la società nella quale viveva se voglio dire creavano un ambiente da un'altra parte passavano inosservate per eccesso di evidenza scivolavano gradualmente nel dominio del non avvertibile diventavano impercettibili finivano con lo scomparire la cena stava per finire la conversazione cresceva il numero dei conversatori aumentava e aumentava il rumore delle voci che si intrecciavano che discutevano che si contraddicevano Prosit manteneva il silenzio più acceso conversatore il capitano Graive teneva un tono lirico direi il suo discorso verteva sulla mancanza di immaginazione così la chiamava che rendeva insipida la cucina moderna il suo entusiasmo aumentava nell'arte della gastronomia osservò erano sempre necessari nuovi piatti il suo modo di vedere era ovviamente limitato all'arte che conosceva egli sosteneva erroneamente dava a intendere che solo nella gastronomia l'innovazione fosse di fondamentale importanza e questo può essere stato un modo sottile per dire che la gastronomia era l'unica scienza e l'unica arte arte benedetta urlò il capitano dove l'idea conservatrice è un'eterna rivoluzione di questa potrei dire continuò ciò che schopenhauer dice del mondo che si preserva attraverso la sua distruzione perché prosit chiese un membro dall'estremo capo della tavola notando il silenzio del presidente perché prosit non avete ancora espresso la vostra opinione dite qualcosa perbacco siete forse distratto o malinconico non vi sentite bene tutti gli occhi si posarono sul presidente il presidente sorrise nel suo modo abituale col suo solito sorriso malizioso misterioso mezzo corrucciato eppure il suo sorriso aveva un significato preannunciava in qualche modo la stranezza delle sue parole prosit ruppe il silenzio che si era fatto in attesa della sua risposta ho una proposta da farvi un invito disse ho la vostra attenzione posso parlare appena ebbe detto queste parole il silenzio sembro farsi più profondo tutti gli sguardi si concentrarono su di lui ogni movimento ogni gesto si fermò a quel punto perché tutti furono presi dalla più grande attenzione signori cominciò Herr Prosit nell'invitarvi a questa cena oso sostenere che nessuno di voi ha mai partecipato a nulla di simile il mio invito è al medecimo tempo una sfida più tardi vi spiegherò ci fu una breve pausa nessuno si mosse tranne il Prosit che gustava un bicchiere di vino signori e gli ripeté in modo eloquentemente diretto la mia sfida a tutti i presenti consiste nel fatto che fra dieci giorni offrirò una nuova sorta di cena una cena molto originale consideratevi invitati mormorì di spiegazione e domande si levarono da ogni parte perché quel tipo d'invito che cosa voleva dire cosa significava perché quell'oscurità di espressione qual era in altri termini la sfida che lanciava a casa mia disse Prosit nella piazza voi trasferirete a casa vostra il luogo di riunione della nostra società chiese qualcuno no sarò solo per quest'occasione e sarà una cosa davvero originale Prosit indagò ostinatamente un altro con curiosità molto originale un'assoluta novità bravo l'originalità della cena disse il presidente parlando come se avesse riflettuto non consiste in quello che vi appare ma in quello che significa in quello che contiene io sfido chiunque qui presente e vorrei dire chiunque in ogni luogo a dire dopo aver finito in che cosa essa è originale nessuno ve lo assicuro indovinerà questa è la mia sfida forse avrete pensato che si tratti di qualcosa per cui nessuno potrebbe offrire un banchetto più originale ma no non è così è molto più originale è originale al di là delle vostre aspettative possiamo sapere chiese un membro il motivo del vostro invito sono spinto a questo spiegò Prosit e lo sguardo fisso gli dava un'espressione sarcastica da una disputa che ho avuto prima di cena alcuni dei miei amici qui presenti avranno sentito la discussione possono spargere la voce il mio invito è fatto accettate certo certo giunsero grida da ogni parte della tavola il presidente assentì e sorrise e palesando una soddisfazione che forse gli veniva da una sua visione interiore finì il suo discorso quando Herr Prosit ebbe fatto il suo stupefacente invito la conversazione cadde sul motivo reale di quanto egli aveva detto alcuni erano dell'opinione che si trattasse di un altro scherzo del presidente altri che Prosit volesse dare una prova ulteriore delle sue capacità culinarie il che era del tutto gratuito poiché dicevano questi nessuno li aveva messo in dubbio egli voleva forse solo soddisfare la sua vanità in quest'arte altri ancora erano sicuri che il motivo dell'invito fossero certi giovani di Francoforte tra i quali e il presidente esisteva una rivalità in fatto di gastronomia risultò subito come vedranno i lettori che il motivo della sfida era effettivamente il terzo lo scopo immediato intendo dire poiché essendo il presidente un essere umano e soprattutto molto originale il suo invito recava psicologicamente le tracce delle tre intenzioni che gli erano imputate il motivo per cui non si credette subito che la vera ragione dell'invito di Prosit fosse la disputa come egli stesso aveva affermato era che la sfida era troppo vaga troppo misteriosa per apparire come una risposta a una provocazione come nulla più che una vendetta alla fine comunque gli si dovette credere la discussione menzionata dal presidente era avvenuta tra lui e cinque giovani di Francoforte questi giovanotti non avevano di particolare che il fatto di essere gastronomi penso che quello fosse l'unico titolo degno della nostra attenzione la loro contesa era stata per quanto si ricordi sul fatto che un qualche piatto inventato da uno di loro o una cena da loro offerta fosse superiore alle imprese gastronomiche del presidente su questo era sorta la disputa attorno a questo centro il ragno della discordia aveva ingenuosamente intessuto la sua tela i ragazzi avevano preso parte alla discussione con una certa foga prosit aveva controbattuto in modo sommesso e moderato era sua abitudine come ho detto non cedere mai all'ira in questa occasione tuttavia si era quasi irritato per la foga delle risposte dei suoi contendenti si credette ora che si sapeva che il presidente avrebbe giocato uno dei suoi giganteschi tiri ai cinque ragazzi per venticarsi a modo suo di quella disputa perciò l'aspettativa presto divenne grande cominciarono a circolare voci circa un brutto scherzo storie di una vendetta straordinariamente originale dato il caso e l'uomo queste voci si giustificavano da sole erano goffamente costruite sulla verità prima o poi furono tutte riferite a prosit ma ascoltandole gli scuoteva la testa e mentre sembrava fare giustizia la loro intenzione deplorava la loro banalità nessuno diceva ha indovinato era impossibile che qualcuno indovinasse doveva essere una sorpresa congetture supposizioni ipotesi erano ridicole e inutili queste dicerie naturalmente circolarono più tardi torniamo alla cena durante la quale era stato fatto l'invito si era appena finito stavamo andando verso il fumoir quando ci imbattemmo in cinque giovanotti dall'aspetto raffinato che salutarono prosit piuttosto freddamente ah amici miei il presidente spiegò voltandosi a noi questi sono cinque giovani gentiluomini di francoforte che io una volta ho battuto a un concorso di gastronomia sapete veramente non credo che voi ci abbiate battuti replica uno dei ragazzi con un sorriso allora lasciamoli cose come stanno o come stavano in realtà amici miei la sfida che ho appena fatto alla società di gastronomia con un ampio gesto della mano indicava a noi è di un'importanza molto maggiore e di natura molto più artistica lo spiegò ai cinque e si ascoltarono il più scortesemente possibile quando ho lanciato questa sfida proprio ora signori ho pensato a voi ah sì davvero e noi cosa centriamo lo vedrete presto la cena è fra due settimane il diciassette non vogliamo sapere la data non ne abbiamo bisogno no avete ragione ridacchiò il presidente non occorre non sarà necessario tuttavia aggiunse sarete presenti alla cena cosa gli dò uno dei tre ragazzi degli altri due uno fece una smorfia e l'altro sgranò gli occhi il presidente sogghignò in risposta sì e vi contribuirete nella maniera più concreta i cinque ragazzi manifestarono apertamente il loro dubbio e il loro scarso interesse per la questione venite venite disse il presidente mentre se ne andavano quando mi propongo una cosa la faccio su serio e io vi dico che sarete presenti alla cena e che contribuirete alla sua buona riuscita questo fu detto in un tono di così ovvia e acuta canzonatura che i giovanotti andarono su tutte le furie e si precipitarono giù per le scale l'ultimo si voltò forse saremo presenti con lo spirito disse pensando al vostro insuccesso no no voi sarete realmente lì sarete fisicamente con i vostri corpi ve lo assicuro non preoccupatevi lasciate ogni cosa a me un quarto d'ora più tardi quando tutto era finito seguì Prosit giù per le scale credete che riuscirete a farli venire Prosit gli chiesi mentre si metteva il cappotto certamente disse ne sono sicuro uscimmo insieme e ci salutammo sulla porta dell'albergo arrivò così il giorno della cena di Prosit la cena ebbe luogo a casa di Prosit alle sei e mezzo del pomeriggio la casa quella che Prosit aveva indicato si trovava nella piazza non era in realtà la sua casa ma quella di un suo vecchio amico che viveva fuori Berlino e che la prestava a Prosit quando questi ne avesse bisogno era sempre a sua disposizione anche se egli la utilizzava raramente alcuni dei primi festini della società di gastronomia si erano tenuti lì fino a quando non ci si era accorti che per comodità signorilità e localizzazione l'albergo offriva maggiori vantaggi nell'albergo Prosit era molto conosciuto e i piatti erano eseguiti secondo le sue direttive la sua capacità inventiva aveva tanto sfogo là quanto a casa sua con pochi sia suoi che degli altri membri o di qualche ristorante e non solo la sua abilità aveva un vasto campo d'azione ma anche l'esecuzione dei suoi piani era più rapida migliore e si erano eseguiti più precisamente e accuratamente quanto alla casa di Prosit nessuno sapeva dove fosse né si preoccupava di saperlo per alcuni banchetti veniva usata la casa di cui ho appena parlato per gli appuntamenti amorosi egli aveva un piccolo appartamento era infine iscritto a un club forse a due ed era spesso visto nell'hotel come dicevo nessuno conosceva la casa di Prosit che però ne avesse una oltre ai luoghi menzionati da lui frequentati era un fatto certo non conoscevamo neppure le persone che abitavano con lui Prosit non ci aveva mai fatto sapere chi fossero i compagni del suo litiro non ci aveva mai detto neppure che esistevano si trattava semplicemente di una nostra congettura Prosit aveva vissuto e questo noi lo sapevamo anche se non mi ricordo per mezzo di chi nelle colonie in Africa o in India o in qualche altro luogo dove aveva accumulato un patrimonio del quale ora viveva diciamo che sapendone abbastanza avevamo ritenuto ozioso indagare sul resto il lettore conosce ora sufficientemente il quadro della situazione da poter fare a meno di mie ulteriori informazioni circa il presidente e la casa in questione veniamo dunque alla famosa cena la stanza dove era stata imbandita la tavola per il banchetto era lunga e larga ma non imponente sulle pareti non vi erano finestre ma solo porte che davano su diverse stanze a una estremità dalla parte della strada si stagliava una finestra alta e larga splendida che sembrava respirare tutta per sé l'aria che lasciava entrare suddivisa in tre parti dagli stessi scomparti del battente occupava esattamente lo spazio di tre comuni ampie finestre benché la stanza fosse grande questa sola finestra era più che sufficiente dava luce e aria a tutto l'insieme al centro della sala era stata imbandita una lunga tavola per il banchetto a capo della quale sedeva il presidente di spalle alla finestra il sottoscritto in qualità di membro più anziano sedeva alla sua destra altri dettagli sono superflui eravamo cinquantadue partecipanti la stanza era illuminata da tre lampadari che sovrastavano la tavola attraverso un'abile disposizione dei loro ornamenti le luci erano singolarmente concentrate sulla tavola in modo da lasciare piuttosto oscuri gli spazi tra questa e i muri l'accorgimento ricordava la sistemazione delle luci sui tavoli da biliardo tuttavia poiché qui tale effetto non era ottenuto come in quelli attraverso un espediente il cui fine era ovvio ciò che si notava era tutta il più una sensazione di stranezza se ci fossero state altre tavole l'oscurità fra l'una e l'altra sarebbe risultata alquanto modesta ma poiché vi era una sola tavola ciò non si notava io stesso lo notai solo più tardi come il lettore potrà constatare sebbene anch'io come tutti i presenti nell'entrare mi guardassi intorno in cerca di qualcosa di strano non notai nulla di particolare in quale modo la tavola fosse orientata parecchiata e decorata non ricordo esattamente e ciò non mi pare essenziale rispetto ad altre tavole da pranzo non c'era nessuna differenza sostanziale nessuna originalità in tal caso qualsiasi descrizione sarebbe sterile e inutile i membri della società di gastronomia 52 come ho detto cominciarono ad arrivare alle 6 meno un quarto 3 se ben ricordo arrivarono solo un minuto prima dell'ora della cena l'ultimo arrivò nel momento in cui ci sedevamo a tavola in queste cose come era proprio degli artisti non si faceva molta cerimonia nessuno ebbe a ridire per il ritardo ci sedemmo a tavola in uno stato di contenuta aspettativa di dubbio e sospetti questa doveva essere ognuno di noi lo ricordava una cena molto originale tutti eravamo stati sfidati a scoprire in che cosa consistesse la sua originalità e questo era il difficile l'originalità stava in qualcosa di non apparente o in qualcosa di ovvio stava in qualche piatto in qualche salsa o in qualche addobbo consisteva in qualche particolare triviale della cena o magari stava nel carattere generale del banchetto poiché ogni cosa era possibile ogni cosa vagamente probabile ogni cosa ragionevolmente improbabile impossibile tutto ciò forniva un motivo di sospetto di dubbio di disorientamento era lì l'originalità era quello lo scherzo cosicché non appena ci fummo tutti seduti a cenare cominciammo a scrutare minutamente curiosamente le decorazioni e i fiori sul tavolo e non solo questi ma anche i disegni dei piatti la disposizione dei coltelli e delle forchette i bicchieri le bottiglie di vino molti di noi avevano già esaminato le sedie non pochi con fare indifferente girarono intorno al tavolo intorno alla stanza uno aveva guardato sotto il tavolo un altro lo aveva attastato rapidamente e accuratamente nella parte inferiore un altro ancora fece cadere il tovagliolo e si piegò per raccoglierlo cose che fece con alquanto goffa difficoltà voleva vedere mi disse poi se non ci fosse una trappola che a un certo punto del banchetto avrebbe inghiottito il tavolo o noi e il tavolo insieme non riesco a ricordare ora con precisione quali fossero le mie supposizioni o congetture tuttavia ricordo distintamente che erano abbastanza ridicole dello stesso tipo di quelle che ho descritto parlando degli altri nella mia mente si susseguivano fantastici e straordinari pensieri attraverso un'associazione di idee puramente meccanica era tutto suggestivo e insoddisfacente allo stesso tempo considerandolo bene tutte le cose avevano una loro singolarità è così di ogni cosa d'altronde ma nulla presentava chiaramente nitidamente un segno tale che risultasse essere la chiave del problema la parola nascosta dell'enigma il presidente ci aveva sfidati tutti a indovinare l'originalità della cena data la sfida data l'abilità di Prosit per gli scherzi nessuno avrebbe potuto dire se l'originalità fosse ridicolmente insignificante a bella posta se si nascondesse in una indiscrezione stravagante oppure dal momento che una simile cosa era possibile così stesse nel fatto di non avere assolutamente niente di originale questo era lo stato d'animo col quale tutti gli ospiti lo dico senza esagerazione presero posto per consumare una cena molto originale la nostra attenzione era concentrata su ogni cosa e la prima cosa da osservare fu che il servizio era composto da cinque camerieri negri i loro visi non si potevano vedere bene non solo per via dei costumi alquanto stravaganti che indossavano compreso uno strano turbante ma anche per la singolarità delle luci per cui come nelle sale da biliardo sebbene non con lo stesso artificio la luce era diretta verso il tavolo e lasciava tutto il resto nell'oscurità i cinque camerieri negri erano ben addestrati forse non perfettamente ma bene lo rivelavano molti particolari avvertibili da uomini come noi a contatto quotidianamente con camerieri in occasioni importanti apparentemente sembravano istruiti molto bene per una cena in cui servivano per la prima volta questa l'impressione che il loro servizio aveva fatto ai miei occhi esperti ma la scartai momentaneamente non vedendoci niente di straordinario non si trovavano camerieri da nessuna parte forse pensai in quel momento Prosit li ha portati dall'estero da un suo viaggio il fatto che io non li conoscessi non era una ragione per non crederlo perché come ho detto la vita privata di Prosit così come la sua dimora non c'erano conosciute Prosit le teneva segrete per ragioni tutte sue e sulle quali non sarebbe stato delicato indagare o fare apprezzamenti le mie riflessioni sui camerieri negri furono semplicemente queste la cena era dunque cominciata e la nostra perplessità aumentava le peculiarità che essa presentava erano a ben riflettere così insignificanti che se ne rendeva inutile qualsiasi interpretazione sono eloquenti in proposito le osservazioni fatte scherzosamente da uno degli ospiti verso la fine della cena l'unica cosa che la mia mente attenta e perspicace riesca a vedere di originale disse con voluta pomposità un membro titolato è innanzitutto che i nostri camerieri sono scuri e che per di più si muovono nel buio ma in realtà al buio ci siamo noi in secondo luogo che se tutto ciò ha un significato il suo significato è che non significa un bel nulla non sento odore di tranelli l'unico odore che sento del resto squisito è quello del pesce queste banali osservazioni furono ben accolte dai commensali anche se non si possono definire spiritose tutti comunque avevano notato le stesse cose ma nessuno credeva che lo scherzo di prosit non significasse altro che questo guardarono il presidente per verificare se l'espressione del suo sorriso tradisse uno stato d'animo qualche segno di un'attitudine particolare ma il suo sorriso era normale e inespressivo forse era leggermente più largo forse aveva ammiccato quando l'ospite titolato fece quelle osservazioni forse era divenuto più malizioso ma non potrei affermarlo con sicurezza dalle sue parole disse infine prosit a colui che aveva parlato sono contento di constatare un inconsapevole riconoscimento della mia abilità nel dissimulare nel far apparire una cosa diversa da quel che è vedo infatti che è stato ingannato dalle apparenze vedo che è ancora lontano dalla verità dalla burla è ben lontano dall'indovinare in cosa consiste l'originalità della cena e devo aggiungere che se c'è qualcosa di ingannevole cosa che non nego non è certamente il pesce tuttavia la ringrazio per il suo elogio e il presidente si inchinò in modo canzonatorio il mio elogio il suo elogio perché lei non ha indovinato e così facendo ha proclamato la mia abilità io la ringrazio una risata mise fine a quest'episodio nel frattempo io che avevo riflettuto durante tutto questo tempo arrivai improvvisamente a una strana conclusione riandando con la memoria alle parole dell'invito e al giorno in cui era stato fatto ricordai a un tratto che la cena era il risultato di una discussione del presidente con i cinque gastronomi di Francoforte ricordai l'espressione di Plositi in quel momento gli aveva detto ai cinque giovanotti che essi sarebbero stati presenti alla cena che vi avrebbero contribuito materialmente aveva usato proprio questo termine ora questi ragazzi non erano ospiti subito la vista di uno dei camerieri negri mi fece notare la loro assenza e anche il fatto che erano cinque la scoperta mi fece trasalire guardai i camerieri per vedere se i loro visi tradissero qualcosa ma le loro facce nere erano nell'ombra e in quell'istante notai l'estrema abilità con cui la disposizione delle luci concentrava tutta l'illuminazione sulla tavola lasciando parzialmente all'oscuro il resto della stanza soprattutto all'altezza delle teste dei cinque servitori per quanto fosse strano e sconcertante non mi rimanevano dubbi ero assolutamente sicuro che i cinque gentiluomini di Francoforte fossero diventati per l'occasione i cinque camerieri negri l'assoluta incredibilità della cosa mi trattenne per un attimo ma le mie conclusioni erano molto ben tratte erano più che logiche non poteva essere diversamente ricordai immediatamente che circa cinque minuti prima nello stesso banchetto avendo i camerieri negri naturalmente attirato l'attenzione uno dei membri Herr Kleist un antropologo aveva chiesto a Prosit di quale razza fossero poiché gli era assolutamente impossibile vedere i loro volti e da dove li avesse fatti venire il disappunto che il presidente aveva manifestato sarebbe potuto passare del tutto inosservato se non che io notai chiaramente perfettamente l'imbarazzo di Prosit e ne rimasi meravigliato poco dopo come ebbi a notare senza rendermene conto mentre uno dei camerieri teneva il piatto vicino a Prosit questi gli disse qualcosa a bassa voce e il risultato fu che i cinque negri si allontanarono nell'ombra esagerando forse la distanza per chi stesse attento alla manovra il timore del presidente era certamente del tutto naturale un antropologo come Herk Kleist un esperto delle razze umane dei loro tipi e delle loro caratteristiche somatiche avrebbe inevitabilmente scoperto l'inganno se avesse visto le loro facce da qui un'estrema irrequietudine di Prosit alla domanda da qui la sua richiesta che i camerieri si tenessero prudentemente nel buio in che modo avesse iluso la domanda non ricordo mi pare che affermasse che i camerieri non erano suoi che ignorava la loro razza e il modo in cui erano giunti in Europa ad ogni modo nel dare questa risposta egli parve abbastanza a disagio forse per il timore che Herk Kleist proprio per conoscere la loro razza chiedesse di esaminare i negri ma è chiaro che avendo dichiarato che i domestici non gli appartenevano non avrebbe potuto dire a quale razza appartenessero poiché essendo ignorante in fatto di razze e sapendo di esserlo avrebbe dovuto cercare di indovinare un tipo le cui caratteristiche più elementari ed evidenti come per esempio la statura avrebbero potuto essere in aperta contraddizione con quella dei cinque camerieri ricordo vagamente che dopo questa risposta prosit deviò la conversazione con un pretesto qualsiasi cercando di far convergere l'attenzione sulla cena o sulla gastronomia e distogliendola dai camerieri l'elaborato condimento dei piatti la bizzarra novità della loro presentazione particolari non insignificanti che oltre alla cena speciale dipendevano dall'abilità culinaria del presidente mi sembrarono quisquiglie escogitate di proposito per deviare l'attenzione tanto evidente mi parve la loro assurdità la grettezza lo stentato anticonformismo devo aggiungere che nessuna dopo averle esaminate le ritenna importanti il fatto in sé in realtà era incredibilmente indicibilmente strano una ragione di più allora dissi tra me per avvalorare l'originalità di prosit era infatti sconcertante che avesse potuto avverarsi come avevano potuto cinque giovani assolutamente ostili al presidente essere convinti preparati e obbligati a rappresentare la parte dei camerieri a una cena una cosa sgradita a ogni uomo di una certa condizione sociale era una cosa che aveva del grottesco come un corpo di donna con la coda di pesce si aveva la sensazione che il mondo andasse alla rovescia il fatto che sembrassero negri era facilmente spiegabile prosit non poteva certo presentare i cinque giovani ai membri della società nella loro vera apparenza era naturale che si avvalesse della vaga conoscenza che avevamo delle sue permanenze nelle colonie per realizzare il suo scherzo facendoli sembrare negri l'angosciosa domanda era come avesse fatto e questo solo prosit poteva rivelarlo potevo capire che qualcuno si prestasse a fare la parte del cameriere per un grande amico o per scherzo e come un grande favore ma in un caso del genere più riflettevo e più la cosa mi sembrava straordinaria ma nello stesso tempo considerate tutte le prove che offriva dato il carattere del presidente era più probabile più certo che la burla di prosit fosse proprio lì poteva ben sfidarci a trovare l'originalità del banchetto così come avevo intuito non stava propriamente nella cena ma in qualcosa connesso con la cena nei camerieri quasi mi stupì di non averlo capito prima che il banchetto essendo offerto per i cinque giovani non poteva non avere attirenza con loro come una vendetta e poiché riguardava loro è chiaro che non poteva in nessun modo essere più direttamente connesso con la cena che attraverso i camerieri queste argomentazioni questi ragionamenti che ho qui esposto in alcuni paragrafi passarono nella mia mente in pochi minuti io ero convinto sconcertato soddisfatto la chiarezza razionale del caso dissipò la sua straordinaria natura dalla mia mente così colsi chiaramente e accuratamente nel segno avevo vinto la sfida di prosit la cena era quasi alla fine eravamo vicini al dessert decisi che la mia abilità doveva essere riconosciuta e parlai a prosit della mia scoperta riconsiderai che non dovevo fare errori manchevolezze la stranezza del problema così come lo avevo concepito lo tramutava in una certezza infine mi chinai verso prosit e a bassa voce gli dissi prosit amico mio ho capito il trucco questi cinque negri e i cinque ragazzi di francoforte ah lei ha indovinato che c'è una connessione tra di loro lo disse tra il canzonatorio e il dubbioso tuttavia mi accorsi che era seccato e irritato dall'acutezza del mio ragionamento che certo non si aspettava sembrò a disagio e mi guardò con attenzione pensai di aver ragione naturalmente replicai essi sono i cinque non ho dubbi ma come diamine ha fatto forza brutta mio caro ma non dica niente agli altri certamente ma come con la forza brutta mio caro prosit beh è un segreto che non si può svelare è segreto quanto la morte ma come possono essere così rassegnati ne sono stupito non scappano ne si rivoltano il presidente fu scosso da una risata repressa non c'è da temere disse con una smorfia più che significativa appare non loro è assolutamente impossibile e mi guardò in silenzio con fare malizioso misterioso infine eravamo alla fine della cena no non alla fine della cena un'altra singolarità apparentemente ideata ad effetto quando prosit propose un brindisi eravamo tutti attenti per questo brindisi proprio dopo l'ultimo piatto e prima del dessert tutti si meravigliarono tranne me che vedevo in ciò una stravaganza senza senso per stornare l'attenzione comunque i bicchieri erano tutti colmi e mentre questi si riempivano il comportamento del presidente si alterava visibilmente egli si agitava nella sedia tutto eccitato con il fervore di un uomo che voglia parlare di qualcuno che abbia da rivelare un grande segreto che debba fare un'importante rivelazione questa condotta fu notata all'improvviso prosit ha qualcosa da rivelarci lo scherzo è prosit proprio lui avanti prosit veniamo al punto mano a mano che si avvicinava il momento del brindisi il presidente sembrava impazzire di eccitazione si agitava nella sedia si contorceva sogginiava sorrideva faceva smorfie ridacchiava senza motivo e senza fine i bicchieri erano tutti colmi tutti erano pronti si fece un profondo silenzio nella tensione del momento ricordo di aver udito due passi per strada ed essermi irritato al suono di due voci una di un uomo l'altra di una donna che conversavano nella piazza lì sotto non ci feci più caso prosit si alzò anzi balzò in piedi facendo quasi cadere la sedia signori disse vi rivelerò il mio segreto lo scherzo la sfida è molto divertente voi sapete che avevo detto ai cinque ragazzi di francoforte che essi sarebbero stati presenti a questo banchetto e vi avrebbero collaborato nel materiale dei modi il segreto è tutto qui in questo voglio dire il presidente parlava in fretta incoerentemente nella fogo di arrivare al punto signori questo è tutto ciò che ho da dire ora il primo brindisi il grande brindisi esso riguarda i miei cinque poveri rivali perché nessuno ha indovinato la verità neppure Meyer si riferiva a me neppure lui il presidente esitò poi alzando la voce fino a gridare disse io bevo alla memoria dei cinque ragazzi di francoforte che sono stati presenti fisicamente a questa cena e vi hanno contribuito nel modo più materiale possibile è stravolto selvaggio completamente infuriato indicò con eccitazione i resti di carne in un piatto che aveva fatto in modo fossero lasciati sul tavolo appena furono pronunciate queste parole un orrore che superò ogni immaginazione cadde con strana freddezza su tutti noi rimanemmo sopraffatti dall'inimmaginabile rivelazione nell'intensità di quell'orrore nel suo silenzio sembrava che nessuno avesse sentito che nessuno avesse capito la pazia al di là di ogni immaginazione era orribile nella sfera della realtà un silenzio che durò un attimo e che tuttavia sembrò per l'emozione e per l'orrore durare secoli un silenzio di cui nulla di simile è mai stato sognato o pensato non riesco a immaginare l'espressione che avesse ciascuna di noi che avessimo tutti noi ma quei visi devono aver avuto un aspetto che nessuno ha mai ancora visto tutto ciò per un momento breve logorante profondo il mio proprio orrore la mia propria emozione sono impensabili tutte le bizzarre immaginazioni e le supposizioni che avevo con naturalezza e con innocenza connesso alla mia ipotesi sui cinque camerieri negri assumevano ora il loro più profondo e orribile significato tutto il malizioso tono sommesso il carattere allusivo della voce di Prosit tutto ciò che ora mi si rivelava nella sua vera luce mi scosse e mi fecero brividire di una paura indicibile l'intensità stessa del mio terrore sembrò impedirmi di svenire per un momento io al pari degli altri ma con più paura e a maggior ragione ricaddi sulla mia sedia e fissai Prosit con un orrore che le parole non riuscirebbero ad esprimere questo per un attimo non più che per un attimo poi tranne alcuni di noi i più deboli che erano svenuti tutti gli ospiti fuori di sé con una furia giusta e incontrollabile ci precipitammo selvaggiamente sul cannibale sul folle autore di quest'impresa più che orrenda sarebbe stata per un ignaro spettatore una scena orribile vedere quegli uomini colti ben vestiti raffinati animati da una furia più che bestiale Prosit era furibondo ma in quel momento lo eravamo anche noi egli non aveva alcuna possibilità contro di noi assolutamente nessuna infatti in quel momento eravamo più inferociti di lui anche uno solo di noi nello stato di esaltazione in cui eravamo sarebbe bastato per punire orribilmente il presidente io stesso primo fra tutti colpì l'assassino con una collera così terribile da farmi sembrare quella di un altro e mi pare tuttora così perché il ricordo che ho di essa è quello di una percezione indistinta afferrai la caraffa di vino che era vicino a me e la scagliai con un violento scatto d'ira sul capo di Prosit lo colpì in pieno e sul suo viso si mescolarono sangue e vino io sono mite sensibile e il sangue mi ripugna pensandoci ora non riesco a capire come abbia potuto eseguire un atto che per il mio temperamento era tremendamente crudele benché giusto perché specialmente per la collera che lo ha ispirato è stato crudele crudelissimo quale sarà stata dunque la mia furia e la mia follia e quale quella degli altri fuori dalla finestra gridò una voce terribile fuori dalla finestra urlò un formidabile coro il tumulto degli animi era tale che il solo modo per aprire la finestra sembrò quello di fracassarla qualcuno vedette una forte spallata scagliando l'asse centrale nella piazza sottostante più di una dozzina di mani animaleschi e ghermirono avvidamente prosit la cui follia era eccitata dalla indicibile paura con un movimento brusco egli fu scagliato contro la finestra ma non l'attraversò perché riuscì ad afferrarsi a uno dei battenti di nuovo le mani lo ghermivano più nervosamente più brutalmente più selvaggiamente ancora e con un'erculea congiunzione di forze con un ordine con un accordo perfettamente diabolico in un simile momento facevano dondolare il presidente nell'aria e lo spingevano con incalcolabile violenza con un colpo che avrebbe abbattuto i più forti ma che rasserenava i nostri animi ansiosi e impetuosi il presidente cadde sulla piazza circa un metro e mezzo di là dal marciapiede dopo senza una parola scambiata né un cenno tutti chiusi nel proprio orrore ognuno di noi uscì da quella casa una volta fuori passata la collera e l'orrore che facevano sembrare il tutto un sogno provammo l'inenarrabile terrore di imbatterci di nuovo nella normalità tutti senza eccezione ci sentimmo male e molti prima boi svennero io svenni proprio sulla soglia di casa i cinque camerieri negri di prosit erano davvero negri vecchi pirati di una tribù feroce e abominevole costoro fiutato il pericolo erano scappati durante la zuffa ma furono presi tutti ad eccezione di uno sembra che prosit per poter effettuare il suo straordinario scherzo avesse con un'abilità perfettamente diabolica poco a poco svegliato in loro gli istinti brutali assopiti dalla civiltà essi erano stati in ogni frangente i coadiutori del presidente era stato ordinato loro di rimanere il più lontano possibile dalla tavola in zone oscure in considerazione della paura dettata dall'ignoranza e dalla malvagità che prosit aveva di Herr Kleist l'antropologo che per tutto quel che prosit sapeva circa la sua scienza avrebbe potuto vedere nelle sembianze dei negri le stimmate della patologica predisposizione alla criminalità i quattro furono puniti a dovere a dovere a dovere Grazie a tutti.